Come stai? No, sempre bene. Finito, lasci di fare... C'era stata coccata il fiato e ho detto, è entrato. Poi, ho fatto tutto. Ah, ma lo volevo. Ciao, ciao, ciao. Mi senti a prendere un po'. Tic-tocchi, è niente. Tic-tocchi, è niente. Ora questo mi va a mangiare. Non pregare, non pregare. Eh? Rispondi! Rispondi! Tic-tocchi, è niente. Io? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.